È una vera e propria dipendenza dal sesso, che non sono ancora riuscito neanche con gli specialisti. Io mi sveglio la mattina e penso al sesso. Vado a dormire pensando al sesso. Porta via la giornata, cioè passo le ore a masturbarmi. Io non mi sono mai drogato, ma penso sia molto simile all'essere dipendente da qualsiasi sostanza. Hai delle crisi di astinenza che riesci a riappagare solo, diciamo, avendo il rapporto, no? E quindi il modo più facile per gestire queste crisi è andare a prostituto, perché è il metodo più veloce. Il mio lavoro è un po' come per un cocainomane diventare spacciatore. Non so quanto mi aiuterà il mio lavoro a uscire da questa mia problematica. Spieghami un'accezione negativa di questo. I soldi che spendi? Tutti i giorni? Sì, sì. Poi i rapporti con le persone, con la mia fidanzata, ci sono tantissimi alti e bassi per sta roba qua, cioè che io non riesco ad avere un focus nella vita sessuale.